oh siamo a casa nostra è vero è molto presto della costruire non ti preoccupare dai andiamo ma basta scrivere slash di pipino e teletrasportarsi da pino aspettami vabbè io scavalco vediamo io non sto guardando la casa finalmente tu hai costruito la casa di tui colì che è ancora in costruzione la voglio in corso giugno Pino Junior finalmente è nato e vabbè pino Junior però in versione piccola scusa macchia qua abbiamo fatto la statua degli aerovolem poi abbiamo fatto la sala di arrampicamento giusto finalmente come potete vedere qua ho messo anche le uova cositto macchia pino junior e pino visto che è nato il figlio ho deciso di fare questo aria ma ora non è cambiato nulla del resto della casa non ho costruito cosa che cosa ti ho detto molto presto te la farò andiamo intanto che mi ha pagato per rimettere sti peccano vabbè ovviamente non l'ho fatto perchè altrimenti uscivano i conini no le leve non si apriva altrimenti ciao golem ciao golemini no golem non mi prendo in giro che fai nella caverna che stai facendo che stai facendo no 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 pericoloso pericoloso si è bloccato ok ah io torno su ti lascio qua sola no no aspetta sto tornando basta che segui le torce aspetta raccolto il ferro e vedo dove sono ok andiamo in esplorazione ma che dove è in esplorazione allora qua ahia battuto la aspetta mi aspetta battuto la faccia questo è l'acquario finalmente abbiamo fatto un acquario di ultima tecnologia si sono dentro l'acquario ah che bel posto rilassante tanto per godersi il suono bello dell'acqua facciamo un respiro profondo ah ma aspetta ok l'ho fatto ora possiamo andare no questo qua non vuole mai niente dov'è dov'è sto coniglio oh mamma mia rischia la vita ed è morto ora provo a riparare sto buco ah eeeh devo far vedere una cosa intanto qua c'è una storia di torce che mentre la stavo facendo ho trovato il villaggio e io ho costruito già un faro ma non ho fatto niente insomma ti hai detto tu dovevi cercare il villaggio ah ah infatti in realtà sto coniglio di cercare il villaggio poi ho capito che non lo troverò che in questo mondo non esisteva e poi ci ha dato la sabbia ma non è di cercare il villaggio no lo sai che le torce distrugono la sabbia fino a che abbiamo messo il ponte non abbiamo costruito nient'altro ho migliato anche la trappola a slanzo prenditela prenditela questo video ha fatto una figura ok 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 aspetta e si va sopra vabbè ci vediamo dopo è ora di mettersi al lavoro cosa possiamo prendere io direi di prendere una bella terracotta bianca delle lastre e fare il balconcino con la betulla e ovviamente alla piscina no io la faccio altrimenti si gela la facciamo qui la casa ovviamente deve essere piccola come la mia perchè intanto siamo in campagna quindi non vi preoccupate che intanto così spero che non venga in questo posto intanto è occupata sicuramente starà lavando il villaggio perchè io la conosco lava sempre tutto è la donna di casa donna di casa che pulisce tutto intanto facciamo così bla 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 e che diciamo vi facciamo un secondo piano dai si facciamoglio dai 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 tanto che ci vuole a fare una casa io sono un maestro delle case vabbè ovviamente toglie il video perchè vi annoia cambio di programma ho distrutto l'intera costruzione e ho deciso di fare del suo colore preferito magenta del suo colore preferito del calcestruzzo visto che lo vuole sempre adoro anche il rosa lo so lo so lo so tanto se la sentite distratta perchè sta facendo delle cose mi sta squillando ma io non ho un telefono quindi non aspettate che vado a prendere il telefono dalla tasca pronto eh pronto Samu ti volevo dire che cosa stai facendo? io sto pulendo il villaggio no non sto facendo niente 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 ok ora metto pausa stai giocando? si metto pausa questo pronto eh scusa mi sembro ma tra 5 minuti sono a casa no 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 tu continua a lavare perchè poi ti meriterai una bella sorpresa lo sai ti darò le mele d'oro oh mio dio ah sei andato al supermerciato si si già le ho comprate vabbè ok ciao ciao ok devo fare molte in fretta pronto 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 scusami che c'è ancora la data però da 2 minuti circa sono a casa perchè mi manca il faro e l'orto ciao no 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 vabbè ciao non fare storie ciao ciao ancora non mi ha telefonato quindi posso stare tranquillo è pronto? eh gli ultimi tre orti sono da te ok che dobbiamo sbrigare pronto? ciao sto venendo ciao non mi devo spiegare non mi devo spiegare mi devo spiegare non mi devo spiegare mi devo spiegare che c'è? Scusami Ma Sono arrivata Che devo fare? Ciao No, rapporto Non mi farò neanche spiegare Andiamo sul ponte Ponte, ponte, ponte Ah, mio Dio Aiutami, devo ripararlo subito La mia casa Il legno Il tetto Il tetto, no, porca miseria Oh, mio Dio, il tetto Speriamo che non durerà niente Sta neve Oh, mio Dio Non si sente più niente Vabbè, dai Cavolo, è qui vicino Qui vicino Perché non vedi la casa Dai, tu l'hai vista? Che cos'è sta cuba viola? Ah, vabbè, sarà una vecchia costruzione Perché l'altra? L'ha vista, l'ha vista Una porta L'ha vista L'ha vista E' finito Anzi, no, ritorno Cavolo, 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 cavolo Cavolo, cavolo, cavolo Cavolo, cavolo, cavolo Ma dove sarà fuso? Ma che cosa è sta cuba viola? Non voglio andare all'interno Ho paura che Vabbè, vado all'interno? Sì o no? Oh, mamma mia Ma si deve lavare Sì, no, mi sento l'acqua sopra di me Che mi sta adottumando No Ti sa qua, ecco Ecco, ecco, ecco Dai, qua sto vicino Se l'ho Però è bel colore Ecco qua Poi, qua E' libreria E' libreria Per l'età che Poi ci sono Devo mettere la farmacia Da un'altra parte Ok, no E' un'ottima cucina E' un'ottima cucina Cazzo che possiamo finire Non lo so Non lo so Mi manca soltanto la televisione Oh, ho spaccato un blocco Ok, ho spaccato un blocco Prega, prega, prega Prega, prega Prega, prega Mannaggia, ho spaccato un blocco Adesso Ma che cosa c'è dentro? Non c'è niente Ok, abbiamo finito la casa Oh no, se tu Sia, sia là Devo aspettare Tagliamo Ciao Ciao Ma Una sorpresa per te Un bellissimo cubo viola Sì, guarda all'interno Rimarrai a bocca aperta Questo secondo te lo chiami un cubo del male Questo, Wika, arriverà a 7 miliardi di mi piace Apri la porta Che cosa c'è? La tua casa Guarda Guarda sopra la Guarda, c'è anche il piano di sopra Ecco la tua casa Una bocca aperta Ultra Super Potente E al televisione ovunque Passivo La mia casa è bellissima Grazie E' la casa più moderna Che abbiamo costruito In un posto di campagna Ovviamente la signorina aveva appena Vabbè comunque Questo video Spero che vi sia piaciuto Questo Questa scena Vi sia piaciuta tantissimo Se questo video arriva Se mi piace Sei Porteremo Tanti altri video così Ciao Ciao